Prima che mi dimentico vi faccio vedere che ho rimontato la lama della motosega e l'ho presa Oregon 915 3 ottavi 45m e guardate la differenza tra questa che era tutta rotta e questa che era tutta rotta vedete i denti piccoli piccoli erano diventati che ogni volta che si arrota, che si affilano questi diventano sempre più piccoli qualcuno si era rotto di dente non c'era proprio più vedete qui mancava in certi punti mancava il dente guardate guardate qua e allora mi sono deciso l'ho ricomprata questa me la tengo per riserva se dovesse stuccare se dovesse stuccare questa nuova però guardate questa nuova come si vede che nuova luccica non l'ho provata perché sta piovendo e quindi non ho avuto modo di provarla ma dovrò provarla perché qui ho tanta legna da tagliare che adesso vi faccio vedere guardate quanta legna devo tagliare questa è più di un mese che l'ho buttata giù poi è cominciato a piovere e poi non ho avuto tempo e poi e poi e poi e poi però adesso con la lama nuova con la catena nuova la lama penso che farò in un battebaleno come si dice un giorno ce la faccio a fare tutti i pezzi e poi li devo accadastare al sole coperti che si asciugano bene ok allora andiamo a montare quel pannello grazie a tutti grazie a tutti